Edifici intelligenti, tecnologie per costruire il futuro. Questo il titolo di un altro workshop torinese organizzato da Action Group in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine Architetti di Torino. Il 5 dicembre 2013, presso il Centro Congressi Torino Incontra. Un'occasione di informazione, business e aggiornamento sono stati riconosciuti ai partecipanti sei crediti formativi dell'Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino. Noi siamo per la terza volta qui con Action Group e l'Ordine degli Architetti della provincia di Torino. Natural House è un'azienda che si occupa di realizzazione di case prefabbricate con strutture in Xlam. Io sono la figura tecnica all'ingegnere che si interfaccia direttamente con i professionisti per lo sviluppo e l'ingegnerizzazione dei loro progetti. Sicuramente per i progettisti è il punto di partenza per andare a sviluppare un architettonico che possa essere realizzato con la nostra tecnologia costruttiva. Quindi è bene che dalle prime fasi di progettazione e di interfacciarsi con il cliente ci sia questo rapporto con noi per sviluppare gli aspetti ingegneristici, l'allineamento tra i muri sismoresistenzi dalla copertura fino al piano di posa, le dimensioni dei travi, in modo tale che poi l'architettonico possa seguire tutte le fasi produttive fino al montaggio in cantiere senza alcun tipo di imprevisto durante la rielaborazione del progetto. Quindi è un servizio, un qualcosa di più che forniamo come assistenza ai nostri collaboratori, gli architetti, i professionisti al fine di arrivare a realizzare la struttura senza incorrere degli imprevisti costruttivi. Grazie a tutti!